Carta mia Carta mia Carta mia Carta mia Grazie a tutti. 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 Dick. Affirmative. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. 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 nonostrazione nonostrazione Miemi Miemi non ho scurito vedi 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 Non è riuscito, non è riuscito. Tarko Ampuya, che è un po' di questo. Un po' di questo. Tarko Ampuya. non so non so non so l'aprendimento non so non so non 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 so si si non si non 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 E' vero, è più lì qui il versetto E' vero, è vero, è vero come on, come on Grazie a tutti Grazie a tutti